Ora ci sta fatto una città di acqua Non è? Non è? Sì, è un zatto Adesso 5, per un'acqua No, per un'altra città Facciamo tutto giusto Venti Vai qua In realtà, con il pusher Facciamo un tre pul'acqua Per volare Grazie. 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 no 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 dai ricci, devo fare con i piedi la sbata lo so, non ce l'ho? ecco bene, qui la faccia vai fa bene, allora sono sei rambo, 12 minuti di tempo vai fa chiudono 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 vai scendere dalla sbata un petto sul mare due quattro forse forse giallo 12 12 15 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 16 15 16 17 16 18 18 19 19 ELLE 20 20 19 no vabbè la musica può stare però è scaduto il tempo? no sì sì ok allora fabio manni crossfit san benedetto del pronto WOD 2 categoria scaled fossil s 2019 allora qui abbiamo bilanciere da 20 chili poi i fermi un chilo 5 chili 10 altri 10 e 20 il bilanciere è sempre da 20 chili 20 chili piastra fermo un chilo 5 10 quindi 10 e di qua di nuovo quella da 20 in totale 110 chili ciao